Il giorno in cui sono stata cacciata da casa da mia madre e dal suo amante. Ma tu ti astini a vedere la morte di tuo padre come un festino, che io e Gisto ci saremmo offerti. Tu ignori da quali necessità nascono gli odi e quanta sofferenza costi la vendetta. Tu sei stata l'unica persona che mi abbia trattato con bontà. Quello che tu e tuo fratello vi ha prestato a compiere si chiama matricidio. Atto di giustizia. No, 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 io l'idea alla quale mi ero abituato era quello di uccidere una donna distesa nel letto accanto all'assassino di nostro padre, all'usurpatore della nostra eredità, al tiranno che tortura i nostri compagni. Ma è possibile che tu debba sbattere il naso sulle cose per capirle? È il nostro progetto d'assassinio il nostro bambino. E tu, Pillade, che cosa ne dici? Tu, che di tutta questa banda che circondo resta, in fin dei conti, sei più utile in quanto più corrottibile. E corrotto. Zitta, zitta, io ricaccerò in gola tutte queste parole schifose, io ricaccerò in gola, sì, le farò scoppiare una dopo l'altra come nelle vesciche puzzolenti. Zitta, io ricaccerò in gola, sì, le farò scoppiare una domanda.